Ascoltiamo i nostri clienti, con uno sguardo al mercato, pianificando il futuro. Idilius definisce gli standard dell'asportazione truccioli da tre generazioni. L'estrema precisione, unita ad elevate prestazioni e dinamiche, caratterizzano i nostri centri di lavoro high performance, made in Germany. Brevi tempi di consegna e massima precisione, con tempi di attrezzaggio minimi. E' in questo modo che i clienti godono del miglior rapporto qualità-prezzo. Producete lotti da 1 a 500 pezzi. I centri di lavoro Idilius ridurranno fino all'80% i vostri tempi di attrezzaggio. Nel nostro centro tecnico siamo in grado di dimostrarvi, in qualsiasi momento e in tempo reale, le nostre prestazioni. I tempi di inattività costano. E' per questo che l'assistenza diventa determinante per garantire la vostra produttività. Oltre 50 tecnici qualificati e addetti all'assistenza sono a disposizione per un aiuto rapido e competente in sede e fuori sede. La nostra assistenza telefonica è a vostra disposizione per una diagnosi dei guasti e per pianificare la riparazione del componente difettoso o la fornitura tempestiva dei ricambi. Se necessario, sarà possibile avere un tecnico sul posto entro poche ore. Il nostro team è famoso per il know-how e la precisione. Sono questi gli aspetti su cui si fondano i nostri rapporti di lunga durata con i clienti. Oltre che sull'onestà, l'affidabilità e una solida direzione aziendale. E naturalmente, anche per la passione per la tecnologia. La tecnologia rende le cose possibili. La tecnologia ispira. Alla fine, si tratta di Una tecnologia che ripaga Edilius. Made in Germany.